Salve a tutti ragazzi e bentornati su Michi Tuning Giornata cupa ma non brutta per me Non brutta per me in quanto oggi andrò a rivedere tutto l'impianto frenante della mia macchina E non vedevo l'ora perché è una cosa che voglio fare da veramente tanto tempo Infatti tipo verso l'anno scorso più o meno avevo comprato un set di twin Z330 derivanti da una 159 L'avevo revisionate e l'avevo anche verniciate Soltanto che poi alla fine sapete no le pinze 330 comunque questa è una mito 120 cavalli e diciamo non c'è la sostanza da frenare Quindi comunque la pinza da 330 comincia ad essere una pinza abbastanza importante Impegnativa per una macchina del genere a meno che non hai più di 200 cavalli Mi sembrava inutile mettere una pinza del genere Poi io ho la necessità di utilizzare anche cerchi da 16 Infatti adesso cerchi da 16 in quanto spesso vado in montagna E quindi sulle strade mi serve avere le gomme di doppia stagione invernali Per questo periodo Sì va bene Quindi niente ragazzi sto andando da Fabio Un ragazzo che monta gli impianti e inoltre li fa pure Quindi lui li fa e li monta È un bravissimo ragazzo molto informato Molto capace E mi sono affidato a lui La spesa è tanta Non è poca ragazzi Ve lo dico Non vi sto a dire il prezzo Però il prezzo è alto per questo tipo di modifiche Però insomma lo fate una volta Poi non lo fate più Insomma è un investimento Che poi nel tempo andate diciamo a detrarle Poi consideriamo il fatto che Io i dischi non li ho mai cambiati Sono quelli stock Quindi i dischi che ho io ora Hanno 114.000 km E' un bel chilometraggio insomma Per due dischi originali Mai cambiati Quindi niente ragazzi Io direi intro E ci vediamo direttamente in officina Ok ragazzi Cominciamo con Il montaggio di questo kit di freni Da 305 Alla fine Sono le pinze originali Della Mito Quadrifoglio Qui vedete tutto il materiale Quindi staffe Dadi Pinze Pasticche Olio Dischi E tubi in treccia Quindi si comincia subito Con lo smontaggio Della pinza originale E prima cosa Bisogna Togliere dalle sedi Tutti i cavi Cioè Che devi usare Una chiave di questa Per i tubi Perché potresti spanare Questo raccordo qua Capito Ah quindi questa prima Infili dentro al tubo E poi butti giù Sì perché Se no Quella normale Potresti Potresti spanarlo Capito Perché prende solo A due lati Quella normale Invece questa La prende a tutti i lati Tranne quello che serve Per inserire Qua al tubo Questo è proprio Chiavo in posta Cioè se tu vai su internet Ti chiavi i tubi Fremi Quindi togliamo Il Sfiliamo praticamente Il tubo che porta L'olio Alla pinza Mettiamo un tappino In quanto Se non dovete Spurgare Non c'è bisogno Di lasciare L'olio che cola Sfiliamo La pinza La pinza In questo caso È tutto un blocco Quindi non è pinza Più staffa Ma è semplicemente La pinza Che è Serrata Sul fusello Del braccio O del bracetto Ovviamente Dobbiamo eliminare L'olio presente All'interno della pinza Quindi basta scansare Il pistone Della pinza Con un cacciavite E proprio Vediamo l'olio Che cola E così Siamo più tranquilli Quando andiamo A togliere la pinza E non imbrattiamo niente È semplicemente Una procedura Di sicurezza Poi Poi Svitiamo Il disco Questa è un'operazione Che si fa Ad ogni cambio disco Quindi potete anche Prenderla per buono Come Emozione disco Quindi Si svitano Quei due dadi Si toglie Il disco Qui dietro c'è il mozzo Arrugginito E ogni volta Che si cambia il disco Va Grattato Con della carta abrasiva Grana Grossa E si toglie Tutta la ruggine Sul mozzo Ovviamente non bisogna fare un lavoro super pulito Però Più è pulito alla fine Meglio è Quindi questo è il risultato Mettiamo Prima di montare Le staffe Del frena filetti Sui dadi Che andremo Poi a utilizzare Per il serraggio Delle staffe Avvitiamo il tutto Le staffe che Sono di questo kit Sono quelle Della mito Quadrifoglio verde E si va avanti Si può dire Che si avvitano Si A 92 9 e mezzo 90 newton Questi sono Quelli originali Esatto Allora Ha scattato Ha scattato Poi Ci do Un'altra bottorella A mano Ho fatto 9 kg e mezzo Di dinamometrica E più Ok Ok Sicurezza Sembra N'accostata Quindi Montiamo subito Il nuovo disco Furato Brembo De 305 Lo fissiamo Con i propri dadi Propri Insomma Quelli di prima E li chiudiamo Fino a fine corsa Poi Li stringeremo Più forte In un secondo momento Tra pistone E pasticca Abbiamo messo Del grasso Al rame Alle alte Temperature Quindi Questo è proprio Il montaggio Perfetto Di un kit A freni E andiamo A fissare La pinza Poi Un dado Alla volta Andiamo a mettere Il frenafiletti Diciamo che Procediamo Prima un dado E poi l'altro Per comodità In quanto Magari mettere La pinza Con i due dadi In mano Con pure Il frenafiletti Sopra Diciamo Uno sgocciolo E tutto In truppa Quindi Questo è il metodo Migliore Questa va Questa va Più o meno A 110 Newton Ok Fissiamo quindi Con la chiave A mano I dadi Della pinza Così Per sicurezza Poi andiamo A fissare Anche I dadi Del disco Così abbiamo Fissato Praticamente Pinza Disco E staffa Tutto perfetto Unboxing Tube In treccia Della 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 Questi sono inglesi Mi dicevi Si Ci fanno in Inghilterra No da ieri Inghilterra Uscita pure Dall'Unione Europea Quindi Posterà di più Tra poco Dovrei Cambia marca Si possono fare Anche artigianali Però Ti serve la certificazione Invece Questi la certificazione Ce l'hanno Quindi Penso Che con i prezzi Rimai vanno Molto Finili Qua al serraggio Dobbiamo andare Sempre A mano E non dobbiamo Esagerare Perché La filettatura interna È una 10x1 Di alluminio Quindi Non è che ci vuole Tanto A spanare Ok Siamo quindi pronti A finire Il fissaggio Di tubo in treccio Abbiamo visto come Fissare il lato pinza Questo è Lato macchina Si fissano Prima A mano Questa parte È praticamente Uguale a quella di prima Soltanto che Questa volta Bisogna stringere Un po' di più Ecco Con un po' più di forza Ti lascia queste clip Qui Di andare a mettere In qualche punto Sospetto critico Dove potrebbe tenere Qualche sfregamento Quindi Diciamo che qua Quando la sospensione Va a lavorare Questa posizione Che abbiamo In questo momento Qua potrebbe cambiare Cioè cambia sicuramente No potrebbe Perché Perché Automaticamente Alzandosi Questa posizione Qua cambia Questa parte qua Questa parte qua No Perché è quella Che rimane attaccata Al fusello Invece Questa è quella Che diciamo Ammortizzando Fa i movimenti Quindi Punto critico Io lo vedo Qua Questo Perché Dove fa la curva Quando si potrebbe abbassare Potrebbe Fare questo E sfrega un po' Qua Quindi Vado a mettere Diciamo Questa protezione Vado a mettere qua Ecco Ce ne mettiamo Ce ne abbiamo due Ce ne mettiamo Ne mettiamo tutte e due Abbiamo rimesso Questa farfallina qua Che praticamente Fa in modo che Scappa il gommino Che regge il tubo Poi Poi Ci ho dato Piccola accostata Qua Così E' sicuro Che Non Non si toglie Fatto Fatto questo Ragazzi Praticamente Siamo In dirittura Di arrivo Andiamo quindi A rabboccare Con dell'olio Dot 4 Della Bardal Diciamo E' un olio Abbastanza buono Io vi consiglio Di utilizzare Sempre il dot 4 Che è quello Originale Della macchina Così per non Variare troppo Le caratteristiche Vedete Quando ci sta ancora Qualche bolla Perché ci sta Un botana Poi quando inizia La lista adesso Sta uscire Bello L'invito Senza bolla Significa che Si è sbuggato Così Poi Comunque Ci si è data Almeno Una botta Col penale Siamo usciti Un attimo Così Facciamo Un giretto Tranquilli Fa stessa Al tutto Si danno Dei piccoli Colpetti Così Da far Muovere I bombanti E farli Allineare Tutti Quanti Lo sporco Dovrebbe Sufficiente Con ciò Che ci abbiamo Fatto In officina Perché Il pedale Lo sento Già buono Rispetto All'impianto Tradizionale L'unica Differenza Che puoi Avere Quello Tu eri abituato Che appena Spingevi Il pedale Era molto Sensibile Se tu Ci hai fatto Caso Adesso Un po' Di differenza La troverai Che avrai Un po' Più Corsa Di Pedale È chiamato Tipo un effetto Spugna Però Diciamo Sul 4 Pompanti 335 Della Amito Quadrifogno È veramente Leggero Invece Se già Avessimo Montato Il 330 4 Pompanti Quell'effetto Spugnoso Lo senti Un po' Di più Che dire Ragazzi Abbiamo visto Tutto Il Tutorial Completo Su come Cambiare Le pinze A lamito Con Un'altra Tipologia In questo caso Le 305 Millimetri Ma È Uguale La stessa Cosa Per Le 330 Cambia Soltanto Il tipo Di staff Il tipo Di pinza E la grandezza Del disco Per il resto È tutto Uguale Che dire Veramente Fantastico I freni Ho avuto Modo Di provarli E sono Veramente Una cosa Totalmente Diversa Da quelli Di serie Cioè Quando si Scaldano Veramente Quando pinzi È una cosa Assurda Quindi spero Che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un bel Mi piace Seguitemi su Instagram Mitch Tuning Per qualsiasi Informazione Non esitate A contattarmi Ciao a tutti Ragazzi C'è 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 C'è